Musica Buonasera, siamo qui sui Kennedy Stadium, stasera si affronteranno Sampdoria Under. Le squadre fanno il loro ingresso in campo e si posizionano al centro del terreno di gioco. Due formazioni salutate da Repubblico, come di consueto, un momento di fair play. Direttore di gara di questa sera è Alessandro Passarella che chiama a sé i due capitani per il sorteggio della palla e del campo. Tutto roto, un po' diverso. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.